Nella Milano d'agosto sempre più calda e sempre più vuota sono migliaia gli anziani costretti a rimanere a casa. Soli, spesso senza parenti o amici, sono costretti a rimanere fermi in città. Al loro fianco anche quest'anno c'è Caritas Ambrosiana che in collaborazione con Palazzo Marino offre gratuitamente con consegne a domicilio i pasti per centinaia di loro. Queste le immagini al quartiere Grato Soglio. Gli addetti della Caritas si fermano e svuotano uno dei contenitori in un sacchetto. Rossana Rossi, infermiera e spesso anche volontaria, sale per consegnare il pasto fermandosi a parlare con l'anziana signora che vive in questo stabile. Questo servizio si svolge tutto l'anno perché ci sono anziani che sono da soli proprio assolutamente per cui anche durante l'inverno e così negli altri periodi hanno bisogno di assistenza e comunque dei pasti. Mentre invece d'estate si aggiungono anche quegli anziani che magari hanno i figli che vanno in ferie o magari solamente nipoti perché non hanno una famiglia completa diciamo. Meno male che è arrivato. È contenta di questo servizio? Io sono contentissima. Avrei avuto un dispiacere se non me lo davano. Il servizio di consegna potenziato sarà attivo fino ai primi giorni di settembre per gli anziani segnalati dal settore dei servizi sociali di Palazzo Marino. Ma l'assistenza non si ferma ai pasti. Gli addetti accompagnano gli anziani al supermercato in posta per ritirare la pensione e consentono nel limite del possibile di prevenire quelle tragedie della solitudine e dell'indifferenza che spesso popolano le cronache agostane dei giornali.